Pace e bene, siamo alla nona puntata del nostro ABC sulla Bibbia con noi e ancora una volta Michele Corona, bentornato qui, come va? Tutti ti incontrano? Ciao Michele! No, arriva qualche richiesta effettivamente, magari qualche precisazione, anche qualche aiuto, anche qualche domanda che dovremmo affrontare magari nella prossima puntata interessante. Allora, oggi qual è il tema, l'argomento? Oggi avevamo fissato sulla formazione dell'Antico Testamento, altrimenti detto la composizione dell'Antico Testamento, cioè abbiamo presentato le varie parti della Bibbia ebraica, della Bibbia greco-cristiana, abbiamo presentato i canoni, ormai i nostri amici conoscono che cosa significa canone, cioè la lista dei libri. Ora, questi libri come si sono formati? Come si sono cristallizzati nel tempo? Sono direttamente, questa è la domanda, una delle domande a cui dobbiamo rispondere, si sono formati all'inizio, cioè sono contemporanei alla storia che narrano o sono successivi? E, seconda domanda, se sono successivi, continuano ad essere attendibili, cioè sono una cronistoria di ciò che narrano oppure no? Queste sono due domande, credo, abbastanza interessanti. Questa legna al fuoco? Sì, andiamo subito. Abbiamo preparato, trovato sul marasma di internet dove si trovano tantissime cose interessantissime, abbiamo trovato questo schema che i nostri amici e amiche che ci seguono da casa vedranno più volte proiettato mentre discutiamo, e cioè una proiezione tra il tempo della storia che troviamo nella parte alta, orizzontale, il tempo della storia dal 1200 fino all'anno zero, per l'Antico Testamento, e invece nella parte verticale troviamo, appunto, con vari colori e con varie sfumature, troviamo le varie parti della scrittura, le varie parti del canon. Avevamo già proiettato questa immagine qualche puntata fa, ma oggi ci soffermeremo in modo un po' più particolareggiato. Ecco, avevamo già detto, questo credo sia il punto più importante, avevamo detto che nella storia biblica il X secolo o l'anno 1000, sappiamo che ci sono 100 anni tra queste due date, ma sono dei punti fermi utilizzati fino agli anni 70 per determinare il regno di Davide. Diceva che il regno di Davide fosse nell'anno 1000 o, ripeto, nel X secolo. Oggigiorno, avevamo già discusso con lei di questo, gli studiosi sono un po' incerti. Mettono un problema, mettono un divario di 200 anni, X secolo, VIII secolo, 1800. Uno degli aspetti archeologici più interessanti sono le stalle di Salomone. Un Meghiddo? Sì, sì, sì. Queste stalle che risultano un po' problematiche da mettere, sono di Salomone veramente o sono di Akaz? Ecco qual è il problema. Quindi se fossero invece di Akaz bisogna spostare tutto, ma non ci fermiamo su... Hai parlato, hai citato l'archeologia, ma in effetti tra archeologia e magari esegesi biblica c'è spesso un rapporto dialettico. Sì, direi di contrasto anche spesso, certo. Ecco, su questo io non ho studiato a Gerusalemme purtroppo, ma direi che personalità del calibro di insegnanti, di quelli dell'Ecole Biblic, cioè dei Dominicani, e lo Studium Biblicum Franciscanum, i Francescani, sono direi le personalità che cercano di incarnare queste due anime. Cioè moltissimi dei docenti che sono all'Ecole Biblic, o allo Studium Franciscanum, fanno anche archeologia e fanno anche scavi. Proprio perché effettivamente si è notata questa necessità di unire scavo archeologico, cioè scoperta vera e propria, materiale, con, mi si perdonerà questo, con teorie bibliche. E mi pare che gli scavi spesso, o i risultati degli scavi, molto spesso correggono quanto dicono i biblisti. Giustamente, direi. Anche perché a volte, qua osiamo un po' di più, a volte l'archeologia corregge anche la Bibbia stessa. Ad esempio, Gerico, l'esempio di Gerico, di Josue, che entra nella città con il popolo e attraverso una processione cultuale cadono le mura, gli archeologi affermano che storicamente non è attendibile, perché nel periodo in cui si situa storicamente Josue, Gerico non è stata mai distrutta. Allora, troviamo che, ecco, questo credo sia appunto l'idea della nostra trasmissione, della nostra puntata. Cioè capire come la Bibbia trasmette alcune cose, come questa Bibbia è stata formata e ha cercato di dire qualche evento storico, direi non in modo cronachistico. Non è una telecronaca come si fa della partita. Se un attaccante perde la palla, la perde o non la perde. E colui che fa la telecronica deve dire. E anche rincide molto il tifo. Certo, questo sicuramente. Per alcune squadre l'attaccante non perde mai la palla, assolutamente. C'è sempre fallo, questo è vero. Però, ecco, il popolo di Israele quando ha iniziato a raccontare, non pensava a fare una cronaca storica di ciò che è avvenuto. Certo, questo era lo zoccolo duro. Ma iniziava a vedere, o voleva rivedere indietro, voleva rivedere l'opera di Dio. Allora dobbiamo sempre tener conto che la Bibbia è una storia teologica. Cioè una relazione di Dio con l'uomo che si interseca negli eventi storici. Allora, ecco, dobbiamo guardare anche questo schema con questa ottica. Prima cosa credo necessaria, i libri biblici non sono stati immediatamente scritti. La scrittura, come sappiamo, è nata nel vicino Oriente Antico. La scrittura, quindi siamo proprio nell'alveo della Bibbia, è nata nel vicino Oriente Antico per segnare alcuni commerci. La scrittura è nata necessariamente per dire che io do a lei dieci sacchi di frumento. E che questi dieci sacchi di frumento siano in qualche modo fissati. Che non ci si dimentichi, non basta più la parola. Quindi questo è necessario. Perché? Perché i racconti biblici non sono immediatamente fissati in uno scritto. Noi diremmo quindi, questa è una delle polemiche più normali, quindi sono stati trasformati nel tempo. Direi che le nostre culture pre-tecnologiche, diciamo prima dell'avvento della televisione, i racconti fatti sulla strada, fuori di casa, in Sardegna si dice il sconto del vorretta, o i racconti che si facevano a Sovriscu in estate, ecco direi che sono l'emblema, il simbolo di ciò che si trasmetteva. Cioè fino agli anni 50 gli anziani trasmettevano delle tradizioni, direi una tautologia, trasmissione e tradizione è la stessa cosa. Trasmettevano un racconto oralmente e questo racconto veniva trasmesso oggi, la settimana prossima, l'altra settimana ancora, si ripeteva in modo tale che i bambini avessero impresso questo racconto. Tipico il racconto che ancora i nostri amici ebrei fanno la notte di Pasqua, è il bambino che chiede come mai questa notte compiamo questa cena un po' così strana. e viene ribadito sempre, ogni anno, si direbbe basta una volta, è necessario, al massimo due o tre volte, ma quando il bambino cresce non è più necessario. Invece ripetere fedelmente, questo credo che sia l'avverbio più utile per la nostra trasmissione di oggi, fedelmente ripetere ciò che è avvenuto è proprio quello che è successo nel corso dei secoli. La storia si trasmetteva via orale, di solito. Sappiamo bene, Omero, il via dell'Odissea, erano gli aedi che in giro, diciamo come degli improvvisatori poetici, che andavano in giro a raccontare le meraviglie che erano avvenute o le avventure. Anche qui diciamo che bisogna prendere con le pinze anche queste affermazioni. Assolutamente, certo. Sì, con le pinze. Sappiamo, ecco, noi abbiamo fatto un po' di troppo scientificismo su queste cose, però direi che l'idea bisogna mantenerla salda. Tramandare di paese in paese, come magari potevano fare alcuni cantori, o trasmettere di generazione in generazione alcuni racconti, era il modo per poter tenere vivi questi racconti. È vero, abbiamo nella Bibbia alcune, utilizzerei del termine un po' degli speleologi, delle sedimentazioni, come un minerale che si sedimenta sull'altro, che si aggiunge, che si calcifica. Ecco, la Bibbia è stato questo, credo. Credo, ma questo è certo. Basterebbe leggere alcuni racconti dove vediamo addirittura che ci sono dei termini doppi. Perché? Uno degli esempi è l'episodio di Abramo alla quercia di Mamre, quando incontra questi tre personaggi. Ecco, si dice che vuole, dice la Sara, macina il fior di farina, macina quindi della farina purissima, e poi a fianco, nel testo ebraico, c'è un altro termine che indica la farina cultuale. Quindi il fior di farina, farina cultuale, senza nessuna congiunzione. Perché si è fatto questo? È un esempio, certo, ce ne sono tantissimi, ma è un esempio emblematico che gli studiosi utilizzano sempre per dire come si è sedimentato un termine al posto di un altro che quasi non si capiva più. Il primo non si capiva, quindi l'autore, colui che stava cercando, o meglio il redattore, colui che stava cercando di trasmettere, ha aggiunto un termine, in modo tale che se il primo non si fosse capito, si sarebbe capito il secondo. Allora, ecco, per tornare al nostro schema, nella parte sinistra vediamo che i colori sono più flebili. Sì, i colori soprattutto del pentateuco sono un po' più flebili, perché rappresentano l'oralità, che sembra un po' più flebile, non tanto sicura, viene trasmessa. Ecco, direi che invece è tutto il contrario. Noi oggi siamo una società che cancella quello che abbiamo fatto un minuto fa, basta i social network ci permettono di cancellare continuamente. Nella società antica, e ancor più in quella del primo millennio avanti Cristo, non si cancellava qualcosa, anzi, rimaneva come deposito. Una volta che veniva inserito all'interno di una ricchezza culturale, ecco, questo non poteva più essere cancellato, anche perché nella nostra prima puntata abbiamo imparato che la Bibbia era qualcosa che oralmente si ripeteva e si ripete. Anzi, addirittura, questo l'avevamo già ribadito, si studia a memoria. Allora, un patrimonio studiato a memoria come una nostra poesia, anche le poesie ormai non si studiano più a memoria, anche una poesia non si può modificare, perché quando tu la reciti, chi la ascolta la vuole sentire come la conosce, cioè in un modo perfetto. E allora anche la Bibbia è stata trasmessa con questa oralità fedele. Ed è stata trasmessa, appunto, oralmente, ma poi a un certo punto, soprattutto nel momento in cui, come si vede anche dal nostro schema, nel 930, sempre tenendo questa datazione classica, si è cercato, si sono divisi i regni, e allora il regno del nord e il regno del sud hanno fissato, hanno cercato di iniziare a mettere, diciamo così concretamente, mano alle tradizioni. Per non mischiarle, forse, è sempre un problema identitario. Noi sappiamo questo, in qualsiasi cultura, in qualsiasi tempo, l'oralità si trasforma in scrittura nel momento in cui si sta perdendo qualcosa. Esempio classico, moltissimi siti web, attualmente, riportano tradizioni antiche. Si scrivono preghiere antiche, magari nel dialetto locale, si scrivono tradizioni che si stanno perdendo. Perché? Proprio perché quando si sta iniziando a perdere questa tradizione, bisogna fissarla per i posteri. E siamo, appunto, nel 900, fino alla caduta di Samaria, nel 721, siamo in questa fase, dove il regno del nord, diciamo Samaria, quello che poi sarà Israele, e il regno del sud, che sarà, e che è stato Israele, e il regno del sud, Giudea, cercano di fissare. Ed appunto si vede come la teoria classica delle quattro fonti, cioè fonti del nord, del sud, e poi fonti successive, deuteronomista e sacerdotale, iniziano ad assommarsi, iniziano a essere messe insieme, formando alla fine il Pentateuco. La teoria delle quattro fonti oggigiorno non è più seguita nel modo in cui Wellhausen nel XIX secolo l'aveva pensata, e tutta la scuola tedesca. È stata un po' persa, questo è vero. Non del tutto, e sarebbe un danno perderla del tutto, perché si perderebbe l'idea che la Bibbia è stata scritta, almeno l'Antico Testamento è stato scritto, in mille anni, da più autori in diversi luoghi. Questi tre punti credo che siano i punti fondamentali da ricordare. Non è scritta in un tempo determinato, breve, non è scritta da un solo autore, e quindi non possiamo trovare sempre concordanza, e oltretutto non è scritta in un solo luogo, ma riprende questi vari ambiti. Quindi questa è l'idea del Pentateuco, diciamo, fissato durante l'ellenismo, l'occupazione di Alessandro, e crediamo, gli studiosi credono, ormai che il Pentateuco fosse, diciamo nel IV secolo a.C., fosse fissato la Torah, come noi l'abbiamo detto. Mentre gli altri libri, e qua possiamo andare un po' più velocemente, perché il Pentateuco è sempre stata la crux degli esegeti, sempre stata, anche dei rabbini. Capire se, come la tradizione rabbini, in Cavoleva, il Pentateuco è stato scritto da Mosè, si è sempre detto così, ma se è stato scritto da Mosè, come mai negli ultimi capitoli, l'ultimo capitolo di Deuteronomio, si narra all'interno della Torah la morte di Mosè? Per quanto fosse un superuomo, credo che la sua morte non l'avrebbe potuta fissare. Allora, ma non solo questo, ci sono diversi punti. e poi gli altri libri, le altre parti, Neviim, i Ketuvim, e anche i Deuterocanonici, o gli Apocrifi, sono stati fissati in vari tempi. Chi guarda questo schema da casa potrà vedere come i diversi colori possono aiutare a intravedere come alcuni libri sono molto successivi, sono tardivi direi, per esempio questi in viola, cioè i Maccabeni, Tobia, Esther, sono molto successivi e nascono anche la parte lieve, tiepida del colore, e successiva rispetto al Pentateuco. Questo lo avevamo già detto e mi pare una cosa da ribadire. Il Pentateuco è, come dicevano i rabbini, il cuore della scrittura. I profeti, che sono sia i primi profeti, sia i secondi profeti, Neviim, Akharonim, Neviim, Neviim, Arishonim, Neviim, Akharonim, sono quelli che vengono successivamente al Pentateuco e sono la gabbia toracica e poi c'è appunto la parte più visiva, che è quella ultima, quella che riflette su questi due depositi. Bene. Abbiamo appunto, ora solo per fissare ciò che abbiamo detto, le tradizioni orali sono intervenute nella formazione e nella composizione dell'Antico Testamento e poi queste tradizioni e fonti, come abbiamo detto, ad esempio, le quattro fonti, ma che forse non sono quattro. Questo dimenticavo di dirlo una cosa simpatica. Le quattro fonti, come? Sono cresciute. Sono cresciute. Perché le quattro fonti sono diventate cinque e forse sei. Cioè la tradizione più giovane di queste quattro, che sarebbe questa sacerdotale, sacerdotale, Princeton Codex, esatto, P, famosa come P, ormai viene detta P, P1 e P2. Cioè si è cercato... Confondere con altri. Assolutamente. Ma si è allargata con alcune fonti sacerdotali o alcune tradizioni sacerdotali pare che si siano sedimentate in periodo successivo a quella nota. Direi che non è del tutto sbagliato per quel che ho potuto studiare, però ecco, il problema diventa nostro. Non di chi studia, diciamo, in modo archeologico, le fonti. Ma diventa nostro nel momento in cui noi leggiamo un racconto. se rischiamo di spezzettare, come è avvenuto, sappiamo bene, di dividere il racconto in modo esagerato. All'inizio si è diviso il racconto, questo capitolo è di questa fonte, questo è di quest'altra. Poi, siccome ormai si erano finiti questi capitoli, allora si è passati ai versetti. E dai versetti poi si è passati addirittura alle parole. E le parole sono state divise addirittura con diverse radici. Ecco, direi che questo è certamente un bel gioco accademico, quasi un gioco da medico legale, che divide il cadavere in pezzi. Il gioco Lego, così si chiama. Sì, esatto. Proprio un Lego, dove alcuni, o un puzzle, che forse... Ma direi che questo non è molto utile, eccetto se si fa per riuscire a comprendere in modo archeologico, quali sono gli strati. Bene, abbiamo altri due ambiti, e cioè i documenti giuridici, che sono certamente antichi, molto antichi, ma nella forma in cui li abbiamo attualmente, ecco, sono stati rivisti, e poi appunto i filoni narrativi, che hanno delle origini piuttosto locali, ma che poi si sono espansi. Ora, l'ultima... Credo l'ultima cosa... E' che accederiamo. Certo, l'ultima cosa che diciamo è appunto questo, cioè si pensava all'inizio che Mosè avesse scritto l'intera Torah, cioè l'intero Pentateuco, mentre poi abbiamo questa fase dove si pensa che le diverse tradizioni si siano assommate e siano, appunto in questo lo vediamo meglio, si siano assommate in un autore ignoto che ha cercato di riassumerle e di... diciamo, di riassumerle e di coordinarle insieme. Bene, Michele, mi pare che vi ho messo molta carne al fuoco. Penso che questa tematica ritornerà nella prossima... Sì, certo. Nel prossimo incontro. Bene, grazie per ora. Pace e bene a tutti. Grazie.